Siamo qui con Marco Pecciarski di Megalex Belgrade. Voi ragazzi vengono l'Adidas Next Generation Tournament Città di Roma 2015. Un ottimo risultato per voi. Sono molto orgoglioso dei miei team. Questo è quello che venivamo qui. È un grande vincente per noi. Per noi è in Berlino. E proviamo a vincere l'argomento. Un'argomento finale contro la BASKETBOL ACADEMY. Hai vincente solo per due punti. Ma è stato il tuo avvento per voi. Vincente è vincente. Sono un'ottima team. Sono un'ottima differenza. E' stato un'ottima quando giochiamo con i nostri amici. Ma possiamo vincere. Tu e i vostri amici facciamo un ottimo tournament. Aleksandar Aranitović vince ogni prisa di questo tournament. Il MVP, il miglior scorer. È un ottimo ragazzo. Sì. Il gioca in BASKETBOL ACADEMY. Il gioca in l'Adriaticca. È un ottimo giocatore. C'è stato un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore. C'è stato un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore che il loro sport potengno è l'Euroleague. in Euroleague tournament, e come ho detto, siamo molto orgogliosi di noi e proviamo a vincere l'euro. Grazie Marco.